le esplorazioni di lori lori ha un grande libro che ogni tanto legge parla di animali ed è uno dei suoi preferiti tra le sue pagine c'è sempre qualche curiosità e qualche cosa da imparare quello che le piace di più lo nota poi su un quadernino che porta sempre con sé per condividerlo con i suoi amici vediamo cosa scopro oggi il suo indice inizia a scorrere sotto alle frasi della pagina aperta ma pensa qui dice che non tutti gli animali sentono gli odori come li sentiamo noi beh in effetti mica tutti hanno il naso ma come faranno allora ah ecco gli serpenti usano la lingua per catturare gli odori lasciati dalle loro prede nell'aria o sulle superfici è una lingua a due punte per avere più informazioni possibili gli insetti invece li percepiscono grazie alle antenne ma chissà che cosa sentono adesso voglio provare anch'io ad andare a caccia di odori così facendo corre sul balcone inizia ad annusare i vasi di piante aromatiche e la terra bagnata dalla notte di pioggia poi corre nel giardino ad annusare i fiori e l'erbetta poi poi le sue ricerche vengono interrotte nell'aria c'è un altro profumo e viene dalla cucina che fame mi sta venendo la colina in bocca mi sa che continuerò più tardi magari proprio dalla cucina sorride e tu vuoi provare a scoprire che odori senti in giardino sul balcone o in cucina puoi anche fotografare o disegnare l'oggetto con il profumo più buono che hai sentito o quello che proprio non ti è piaciuto postali poi qui sotto così lori e i tuoi amici potranno vedere cosa hai annusato e chissà che cosa fiuteranno loro ricordati che le cose polverose possono far starnutire e ci buon fiuto e arrivederci alla prossima puntata di le esplorazioni di lori